L'ultima giornata del girone d'andata ed ultima gara del 2022, San Minato Basso e Certaldo sono pronte a darsi battaglia sul netto di San Romano. Vecchiarelli, cross da sinistra, l'uscita incerta di Neri, Pagliai colpisce il palo, percussione, Disanai, controlla e tira Baccini, 1-0 Certaldo. Vecchiarelli se la porta sul destro, ottimo riflesso di Neri. Corner di Marabese, lungo, sul secondo palo, Arpiona, Sciravigna, il destro, D'Ambrosio respinge. Al via il secondo tempo, Certaldo. Baccini, spreni d'apertura sulla sinistra, ancora Baccini, il mancino, la respinta di Neri, tapin di Tarai. Martini, serve centralmente, Bernardini, il destro, a fil di palo. Punizione di Marabese, tutto è seminato basso nell'area del Certaldo, la palla resta lì, punizione. Alla battuta Marabese il destro, la respinta della barriera e poi spazza la difesa viola. Ancora giallorossi in avanti, testa di Cela, la palla resta lì, ancora Cela, lì di destro. Ribatte la difesa viola e D'Ambrosio la fa sua. Cela Vigna, finisce qui.